buongiorno a tutti bentornati nel mio canale oggi breve video per farvi vedere come si realizza un pacchetto di natale perché ci sono persone che proprio non sono capaci a me viene detto tantissime volte come si fa non sono capace anche nelle cose più semplici sono negato bene io vi farò vedere oggi come si realizza un pacchettino semplice come questo quindi semplicissimo e uno un pochino più carino tipo questo quindi andiamo a vedere insieme come si fa cominciamo da una cosa molto semplice una scatola regolare così e vi vado a piegare il bordo così tanto vado a coprire anche qua che c'è il codice a barre scusate ho dato un colpo alla telecamera e vado poi semplicemente a confezionarmi il mio pacchetto quindi vado a fare un pacchetto di questo genere quindi vado a prendere la carta la metto sopra poi vado a metterla ancora sopra in questo modo in modo da formare appunto una cosa regolare dritta poi vado a prendere un po' di scotch e lo vado a mettere qua in modo da fermare tutto a questo punto come si fa? i lati dunque io devo piegare semplicemente in giù la carta così andare poi a piegare verso l'interno l'altra parte così vedete ve la giro così forse la vedete meglio così in questo modo di nuovo fatto così poi a questo punto voi dovete piegare l'angolo in dentro quindi verso l'interno spero che vediate bene e poi andate a piegarlo verso l'alto così in modo che il vostro pacco sia ben chiuso nella parte diciamo di lato quindi andate a fissarlo adesso poi per farvi vedere l'altra parte lo sollevo così sicuramente vedete meglio ecco a questo punto per fasciare dovete andare in dentro come vi dicevo così poi dovete andare a prendere queste parti andare a piegarle così e andare verso l'interno in questo modo qua ok fate una cosa del genere poi qua piegate un pochino la punta verso l'interno e andate a posizionarla in questo modo così in modo da formare un pacchettino che abbia comunque la carta messa in modo abbastanza regolare e questo è il pacchettino fatto semplice semplice adesso però bisogna andare a mettere il nastro perché altrimenti diventa un pacchettino triste secondo me io vi consiglio di scegliere un nastro che abbia un colore che va comunque a contrastare il colore della carta secondo me un nastro che va a staccare bene è il nastro giallo quindi voi andate a prendere un nastro giallo dorato giallo dorato e andate a farvi il vostro pacchetto come si fa andate nell'angolo sotto quindi prendete il nastro e lo andate a mettere nell'angolo in alto da sotto poi passate il nastro sopra così poi passate il nastro nell'angolo qua sotto e poi qui andate di nuovo sopra a questo punto incontrate l'altro pezzo di nastro e andate a fare un nodo un nodo in questo modo qua andate a fare un nodo vi andate a fermare con un dito qui in modo da poter poi fare un altro nodo ci vuole un nodo doppio ovviamente perché così riuscite a fermare bene il nastro quindi andate a prendervi il vostro nastro vi fate il nodo in questo modo qui e così avete formato il vostro pacco a questo punto prendete le forbici e andate a formare il classico ricciolino così e così ecco qua e questo è un pacchettino veramente semplicissimo regolare che non ha nulla di particolare ma per chi non è capace è già un bellissimo pacchetto da realizzare in questo caso abbiamo un pacchetto che è già confezionato già pronto ha già il suo nastrino però io vorrei andare a dargli un tocco in più diciamo così e quindi ho pensato di andare a mettere questa decorazione e una campanellina che comunque fa sempre natale quindi questa è fatta in questo modo ha praticamente i due diciamo questi due fil di ferro per poter legare il tutto quindi io vado ad inserire questo nel vado a mettere la campanellina qui e la lascio verso il fondo quindi praticamente faccio in questo modo vado a chiudere qua quindi me lo vado a legare in questo modo questo essendo una specie di fil di ferro diciamo che riesce comunque a stare ferma ecco vado a legarmela così in modo che stia abbastanza ferma e abbia comunque questo effetto qua poi vado a prendere l'estremità dove c'è la pallina rossa e la vado a mettere sotto al nastro quello che ho già messo quindi praticamente aspettate che ve lo faccio vedere meglio ok praticamente lo vado ad inserire qua sotto così in modo che da una parte io ho la campanellina e dall'altra parte ho questa pallina rossa questo rametto è sempre meglio metterlo sotto al nastro in modo che rimanga così quindi io poi vado a prendermi semplicemente questa parte e lo vado a legare a quello dove ho messo la campanellina faccio proprio una cosa di questo genere quindi molto molto semplice in realtà però è tanto per dare un tocco in più quindi poi la campanellina me la vado a fermare qua così e questo lo metto vicino quindi a questo punto ho il mio pacchettino con la pigna le palline rosse la campanellina e questi nastri ovviamente non li lascio così ma li vado a mettere un pochino intorno alla mia decorazione in modo che facendo attenzione ad alternare verde e rosso così almeno anche i colori sono abbastanza distribuiti in questo modo così è un pacchettino in realtà molto molto semplice l'ho voluto solo abbellire un pochino tanto per dargli un tocco in più e questo praticamente è il pacchettino finito quindi vi viene fuori una cosa di questo genere ripeto è abbastanza semplice però secondo me ha quel tocco in più quello di prima però era un pacchetto semplice perché aveva una forma regolare ma se voi dovete fasciare una cosa tipo questa ad esempio come si fa allora è ovvio che in questo caso è meglio avere un sacchettino perché se voi avete il sacchettino è molto più semplice e intanto colgo l'occasione per dirvi che in questo con questo tipo di oggetto vi farò anche vedere come fare a realizzare un pacchettino diciamo un pochino più elaborato quindi non tanto magari per chi non è proprio capace in assoluto ma anche per chi magari è capace a fare quello classico ma vuole fare una cosa un po più carina mettiamo che il sacchettino voi non lo abbiate avete solo la classica carta normale quindi dovete andarvi a vedere come è fatto l'oggetto se voi fate così poi quando vi dovete andare a fare i vostri lati è ovvio che sarete in difficoltà perché l'angolo è arrotondato quindi io vi consiglio di cercare di avere sempre gli angoli più regolari possibili ai lati quindi andate a prendere il vostro barattolino e ve lo andate a fasciare così quindi lo sdraiate praticamente e andate a fasciarvelo in questo modo in questo modo qua andate sempre a fermarvi il vostro pacchettino la parte centrale diciamo con lo scotch quindi andate sempre a mettere lo scotch adesso praticamente il procedimento è lo stesso di prima andate a piegare in avanti cioè verso l'interno poi andate a piegare in questo modo così vedete vi ritroverete mi avvicino vi ritroverete comunque la carta fatta in questo modo e poi andate semplicemente a tirarla verso l'alto così vedete che comunque rimane più regolare la stessa cosa andate a fare di qua andate a piegare la carta verso il basso e verso l'interno poi andate a piegarvi la parte di qua la parte così di qua e poi andate su in questo modo qua e avete il vostro pacchettino quindi anche una misura diciamo meno regolare può essere comunque fasciata io non ho messo lo scotch adesso quindi si sta aprendo ora vi faccio vedere come farlo con il sacchettino con il sacchettino è molto più semplice perché è sufficiente andare ad inserire il vostro oggettino all'interno e il pacchettino è praticamente già fatto però in questo caso io volevo farvi vedere un pacchettino per chi magari è un pochino più pratico con quelli classici ma vuole qualcosa di particolare voi avete il sacchettino che è così andate a prendere la parte in alto e la piegate verso di voi così una striscia sottile verso di voi poi prendete l'altra striscia e la andate a piegare verso l'esterno invece così su se stessa in questo modo poi di nuovo tornate indietro e la ripiegate sempre su se stessa ma verso di voi così poi andate a ripiegarla ancora una volta ma verso l'esterno in questo modo qua poi di nuovo la ripiegate su se stessa ma sempre verso di voi poi andate a ripiegare verso l'esterno così tenendo sempre ovviamente ferma la parte centrale tenetela sempre ferma e poi la andate a mettere sopra all'oggetto così in questo modo qua e vedete che avete ottenuto un pacchettino di questo genere vedete è fatto così qua andate a mettere lo scotch ed è veramente molto carino e molto semplice da realizzare ovviamente andate verso il centro così avrete poi la stessa misura la stessa altezza nei due questi due saranno della stessa altezza quindi qua andate a mettere lo scotch per fare il nastrino andate a prendervi queste qua che sono ghirlandine già pronte molto facili da usare perché basta semplicemente andare a prendere le due estremità qui e andare a tirare quindi verso praticamente verso destra tirate la ghirlandina la tirate fino in fondo finché non arriva in fondo e vi ritrovate la ghirlanda pronta quindi a questo punto sarà molto facile poi andarla ad inserire sul vostro pacchetto e fare la vostra bellissima figura con il vostro pacchettino